Buongiorno a tutti ed eccoci a un aggiornamento su DAX. Questo aggiornamento serve per farvi comprendere meglio la valenza di uno swing. Allora, dopo che abbiamo fatto questa apertura in gap down con minimo, che peraltro ha raggiunto esattamente il target che vi avevo dato nell'analisi precedente di questa mattina, siamo arrivati esattamente qua, poi abbiamo fatto un eccesso, una spike in giù. Cosa, dopo aver fatto questo minimo qui, che cosa ho suggerito al gruppo di persone che mi danno più tempo, mi concedono più del loro tempo perché sono interessate davvero a imparare tutti gli aspetti della ciclica evoluta? Ho segnalato che solo in violazione di questo swing a 10.474, compatibilmente con il tempo ciclico, e attenzione, perché è fondamentale come cosa, e ho preferito far partire il settimo T-3 da qui, ok, vi faccio vedere le duate, 32 poteva aver chiuso, 39 può aver chiuso, ha chiuso, solo in violazione di questo swing a 10.474 avrei dato la possibilità di valutare un long, con un target, il minimo da cui è partito appunto il gap up, il gap down ieri, 10.530. Cosa è successo? Dopo questa bella finta rialza con tre candele verdi, aspettate che ve la faccio vedere più nel dettaglio, dopo questa bellissima finta di salita, candela rossa, candela rossa, si è andati sotto i minimi, quindi saremmo andati in stop loss, abbiamo creato un altro minimo, e quindi abbiamo solo perso dei soldi. Questa è la valenza dello swing. Se sapete come calcolarlo, se avete qualcuno che ve ne parla in un corso per 3-4 ore, e vi fa degli esempi, e vi permette di capire a fondo che cosa significa swing, probabilmente avrete molte più possibilità di successo rispetto a chi si improvvisa a fare trading, e magari sperando in altre candele che lo portino immediatamente a chiudere un gap down, cosa normalissima, potrebbe essere un ups di Williams al contrario, e invece perde dei soldi. Per cui anche da qua, che cosa stiamo facendo? Ho fatto questo minimo a 10.333, abbiamo creato però uno swing a 10.393, e solo in violazione di questo, con volumi e con determinate altre regole legate al tempo ciclico, che non vi sto a spiegare qui, valuteremo effettivamente se andare long oppure no. Anche perché qui abbiamo già 1, 2, 3, 4, 5 candele sopra questo massimo, quindi un t-5 rialzista, o laterale rialzista, che dà vita all'ottavo t-3. Qui non ne avevamo. Per cui io ho messo il mio bell'allarme, e da qui vedremo che tipo di trade possiamo andare a fare, senza perdere soldi, in base a swing, volumi, tempo ciclico e tanto altro. Io ringrazio per l'ascolto, vi auguro una splendida giornata, e una buona continuazione. Se l'analisi vi è piaciuta, mettete il solito like, perché significa pacca sulla spalla. Grazie Jacopo, probabilmente mi hai dato qualche cosa di interessante su cui rifletto. Buona giornata! Ciao!